Ma se vedi che hai spazzare anche il tuo merdone Allora, sicura Allora, adesso c'è anche il mio commentone Abbraffatto Ma io come faccio per invitare Amici online Ah, ok Amici, vabbè, come quell'altro Amici di aggruppo Mi sto unendo a te, eh Ok, sempre perché è una visione schifosa Sì, esatto, noi ho quel gusto deorrido Che ci appartiene Di cui siamo molto specialisti Adesso vengo e ti Qui sono due giorni Sì, vabbè, è arrivato Cacimbo Sono due giorni che qui piove Che Dio la manda A me se sta allagata tutto il giardino Oggi ho dovuto chiamare quelli del comune E sono dovuto venire a controllare Perché veramente non ci stanno le fogne intorno a casa mia E quindi l'acqua non defluisce Quindi mi se sta allagata il giardino Ma quindi che c'hai? Il pozzo nero? No, ci stanno le fogne Però non ci stanno i cosi Gli sculi dell'acqua Ah Per le fogne Diciamo il sewer, il draining Che è un cavolo Ho capito, ho capito Il drenaggio dell'acqua Forse è qui che si nascondono le iene Ma che cazzo sta sparando? Entra in questa data del complesso e mentira in sicurezza D'accordo, il sistema dei iene Libera gli orti pensi Sì, ecco È arrivato, sto stoccando Anche E poi Vede pure il drone Ha fatto le cose del russo Ah bello, ma con chi cazzo pensi dare a che fai? Ma l'ho sbloccato tipo ieri il drone eh Ma c'ho un po' di punti da sbloccare solo che non ci sono dato alla base che ancora devo proprio sbloccarsi bene No, il drone è un punto abilità eh Eh vabbè però ce l'hai i punti C'ho un po' di punti da sbloccare un po' di cazzo Ma magari accucciate così eviti che ti viene a cerciare no? Eh se ma accuccio però non li vedo Ma te puoi sempre riparare a cazzarola no? Ma mi devi insegnare il mestiere a me Eh vabbè mi sembrava poter dire che ce n'è bisogno Eh 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 Questa invece non ci puoi stare attento Eh eh ho capito Eh ho capito devo fare tutto io eh Aspetta! E muori! Aha! Aspetta! D'affanucco! rifornimenti eh ma adesso rifornimenti forse c'hai qualche perchè alcune ho trovato che non le posso aprire perchè c'è c'ha scritto magari c'hai bisogno di chiave questa, chiave quella pare residenti io chiave oggi, chiave domani, chiave maia alla fine della fine occhio buon anno nooo pesta di minchia metti in sicurezza l'edificio eh ma scusa la rosa verde che mi aveva droppato tuo cazzo è finita eeeh ma sa che è qua qua ma sta qua qua cavalla cavalla cuuuu uuuu 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 eeeh eeeh uuuu uuuu Yeh, guarda qua, una botta, una tacchia! Poi, io de notte non vedo proprio un benemerito cazzo. No, qui in effetti è un po' buio, devo dire, eh. Con fronte a quell'altro, cioè, non si vede proprio niente. Pure meno armi troppano, eh. Forse dipende dal fatto che ancora non sto a un certo livello, però. Ma scusa, a che livello stai? Eh, io sto a 7. Vabbè, io sto a 9, non è chissà che roba, eh. Però mi pare che droppano un po' di meno rispetto... Comunque posso dire che assomiglia a Sandro. A quell'altro? Comunque assomiglia a Sandro, se hai fatto il prezzoggio che sembra Sandro. Eh, sì, almeno così ce lo vedo ogni tanto, capito. Marco said... I said that... You create your out of your character that looks like Sandro. And he said that at least I can see him sometime. E' sempre preso da Gorser, da Beatrice. Sì. 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 C'è il cecchino sopra. Eh, amicia. Eh. Dove sta? Non lo vedo. Eccola, eccola, eccola. Comunque hai visto il video quello che dava la metropolitana? Non guardate, quelli che litigarono metropolitana. Eh sì, ho visto, ho visto. Ma prima Recorder Fight Club è geniale, come si fa? Mi chiesto l'assistenza medica immediata. Come cazzo ti viene in mente? Eh, ma lì sono quei geni, quei lampi di genio... Non si spiegano. Ah! Un genio che serve, è giusto. No, ma sei morto? Eh sì. No. Ma andò sta? Lo toghiati! No, ma andò sta quello che mi sta a sparare. Eh, mica ti posso rianimare così che mi seccano a me. Eh, così poi morimo tutte e due. Va bene, il complesso condominiale è nostro. Grazie a questi orti il teatro avrà viveri e acqua in abbondanza. Odessa ne sarà molto soddisfatta. E poi m'ho visto, quando fai le... Quando superi le missioni, prima a quell'altro te dava degli oggetti a fine missione. Qua no, te dai le casse, te dai punti, ma non ti dava degli oggetti. Sì, sì, sì. La cosa carina pure è quella, sì. È un po' diverso rispetto a quell'altro a livello del dopo. Però non mi sta a dispiacere. Non mi sta a dispiacere, perché comunque c'è un po' più di cose da fare. Un po' più di cose da fare. La storia, vabbè, è sempre un po' cazzona, un po' così, però... Vabbè, la storia è... è quello che è. Da qua non c'è più il Sword on Clancy. Vabbè, però questo è più forte di quest'altra? Ah... Aspetta che forse ho trovato un'arma che è meglio di questa. Da sta questo? Che è stato! E sto qua, aspetta che sto carinando un po' di roba. La cosa figa so quando fai scoppiare bombe che poi non ci senti più. Ah, vabbè, pure quando ti accecano che non ci vedi niente. Si, si. No, ma devo dire... Cioè, rispetto a quell'altro che... Ti ricordi quell'altro ha appena iniziato, il primo era... Ah, non ci stava niente, ci ha messo due anni per diventare un gioco finito. Ah, 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 ah. Beh, questo non è un po' da non fare le stesse cose. Ma... Dove mandavo? Eh, non lo so, dobbiamo scegliere una missione. Che stavi a dire che gli aggiornamenti e le espansioni saranno gratuite? Tutte quelle in single player saranno gratuite. Corsise un passo l'unica... Cioè, single player, vabbè, tutte quelle che riguardano la campagna e la storia. Corsise un passo l'unica cosa che hai è che ci accedi una settimana prima. Eh, vabbè, neanche sti cazzi. Sì, giusto se diventi... vai a far pvp competitivo, ma voglio dire, non è il caso nostro. No, no, no. Grasso per cola, se riusciamo qua a accende a tv. Ma... Allora, dai, scegliamo due donna. Forse, scegliamo una missione. Chi sceglie? Scegli te? Cerco io. Eh, scegli te. Scegli te. Lo sceglie io perché so io che guido? Eh, io... Eh, io sto un po' più avanti di te, quindi... Allora, potremmo fa... Potremmo fa... Potremmo fa... E' famoce questa. Hotel Empire Autumn. Mi porti in hotel? Ma io non so chi ha una sciacquetta, eh? E' una facilina, eh? Missione secondaria della Shade. Recubra la cassa Shade dall'hotel Empire Autumn. Eh, andiamo all'Empire Autumn, va. Andiamo. Non me lo fa vedere a me... Ah, sì, ma aspetta. Ok, aspetta che adesso lo marchi. Da dove arriva? Cos'è unghie sul divano nuovo, eh? Mazzà, ha presa la missione quella che sta più lontana di tutte, praticamente. Eh, quella ce l'avevo! C'è, so, c'era ancora a casa. Sì. Sì. Non li vedo però io questi. Non c'era qualcosa. Mazzine. Sì. 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 Già prenotati. Già prenotati. Con Fulvio, sì sì. Già stiamo là. Sì. 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 Allora dì lì più, a giorno l'fermata. Qua non c'è tutto sto problema, tutto qui. No, no no. Ah no, guarda invece vi è trovato tutti i cinema occupati. Oh. Ah sì? Eh oh, una cosa allucinante Vabbè qua c'è Meno interesse Cioè sì, sarà il film Però addirittura Dove li prenotai i biglietti no Non mi è mai capitato No, non mi è mai capitato Non ho mai trovato una situazione Da non trovare i biglietti, capito? Che cazzo è questa roba? Robottino, robottino, attento, attento Attento, attento, attento Guardate che c'è Uno stronzo Si cade un qua giù Eccolo Sì, ma così non ci arriviamo mai Come stiamo a fare La via crucis Non sta Robottino Robottino Lo ho preso pieno Vabbè, va Cori, corri, corri, corri Cori, corri, corri Rilevato un avamposto alleato nelle vicinari Vai che albeggio Meno male, forse riusciamo a vedere qualcosa Abbiamo combattuto al buio Ma il gioco durerà tre ore In the game Credo che potessi Devo portare Vabbè, i vivi Vabbè, i vivi li Vabbè, il catetere Mi ce vuole Vabbè, poi ormai Mi fanno più manco Le pause tra il primo e il secondo tempo No, vabbè Per film da tre ore Come faranno? Da tre ore a parte lo devi fare Perché sennò la gente la fai morì Ma comunque Vabbè, i vivi li Non vedo A un cinema Di ancora le fa Le pause Dove essere insanzate Ma questo è un altro lavoro Ti vengono Ti vengono le cose E via che date cupido Ti devi mettere le calze Quelle costringenti Dei quando voli Ah, sei cato te? Sì Lavoro sporco Qualcuno lo deve puffare Io non ce li vedo Il problema mio è quello principale Dove stai andando? Perché vai da l'altro? Ma sto Mappa? No, sto prendendo un po' Dei forniture Ragazzi Ragazzi, che c'è sta? Ma vogliamo sal... Ehi, ma siete imbecille Dobbiamo salutare tutti quelli che non ci vedono e non ci seguono su Twitch Non ci sta vedendo nessuno Ma chi ce deve vedere a noi? Ci odiano tutti No, sono invidiosi Entrano tutti in modalità strealto per non vederci A parte che non... In automatico Ma non esce nemmeno più su Facebook Che stiamo... Le iene tengono una cassa sfida in quell'hotel A streamare perché per il discorso di sicurezza Ma non è chiaro è... Ha chiuso tutto il reschio V axe Non lo threschio Eh, sto cercando di buttarlo giù, ma... Buttalo giù io, sto tranquillo. Oh merda! Li vedo, arrivano! Che stanacca! Grave Trauma, arrivano! A posto! Area pulita! Area pulita, Augusto... Oh, ha matto! Voglio vedere se esplodeva! Eh, evitamolo! Ritornisciscili! Vado, eh! La cassa ha un GPS integrato. Dovrei averla localizzata. È da qualche parte sotto di te. Il giro della cassa. O il giro che aveva... I devo accidere! Caz, per la cassa miglia. Il giro, a favore deliceo mi sono! Per il giro! a mo vediamo quanti ce ne stanno innanzitutto ciò sei allora aspetta tiriamo giù subito il cecchino la sopra allora io a destra e tu a sinistra c'è 3 2 ok il cecchino è andato dovrebbero essere morti tutti mi pare che si mi da pulito è stato tu sei pronto che adesso c'è proprio eh che non lo so ostili multipli in arrivo rispetta eh allora tiriamo subito giù un percorso che robottino che che ci sono che 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 un Dai, di questa a destra me ne occupo io Allora io faccio a sinistra Eh Ma c***o Sei morto? No, no Eh Vai giù, cari Dov'hai? Mi ha lasciato una cosa verde la vado a raccogliere Ah Ah Il vetto Il vetto L'uscita è lassù Meglio andarsene Eccomi Ma dai l'uscita Qua Ho vucato Ah Ancora Ancora Io a sinistra e tu a destra Eh ma a destra io sto un po' costivato aspetta Ti fave di fughe Pronto Vado Vado Vai E li arrivano dalle spalle ma non li vedo A me me lo dà La legna Da davanti solo Vado E è il gioco di scuola buonissima ci ha lasciato tutta fuffa c'è ancora una cassa con...che ne so... ah qua c'è qualcosa una scatola di fiammiferi mo si ho un bel grill con una scatola di fiammiferi c'è tra l'antina settimana manco una scatola d'acciugo ottimo lavoro, porta quella cassa a sceida al quartier mastro appena in moto potrebbe tornarsi utile allora fammi vedere prima facciamo un'altra e poi stacco ci volevo fare un avamposto? che va? famose un'avamposto ah uno vicino ah poi missioni col punto interrogativo ha fatte quelle che devi servare gli ostaggi esecuzione ah no quella ancora non l'ha fatte perchè poi se tu fai quelle praticamente fai gli sblocchi dei requisiti che so per fare... servono poi per fare i progetti tipo le armi un po' più potenti più potenti ah ok e alcune ce ne hanno un'altra in più che è tipo la taglia ok è che uno sta qua dietro non è uno insomma uno è uno ma dove sta stavamposto? no sta più su non è questo che cazzo ci sta sparando? oh no oh 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 Uff, tu vai! Ah quello sta sparando o stai? Ah, stai più avanti. Stai più su, stai più avanti. L'orto, vorto, vuoi farmi sparare l'orto? Eh, ma copri. Era proprio a pippa. Ma hai visto quando dice agente richiede supporto? Si, quello è quando qualcuno muore e tu chiedi riscita. Eh, eh, ma come fai? Però non so come si attiva. Eh, infatti è quello che non riesco a capire come faccio a aiutare qualcuno. RINFORZI IN ARRIVO RINFORZI IN ARRIVO Guarda che bella postazione. Ma ce la fai arrivare la migraiatrice eh? Eh no, sto sopra tante copertura se ci vuoi. RINFORZI IN ARRIVO Eh, ce ne stanno un po' troppo. Eh. Vedrò così lo stanno. E tra da sotto. hai visto lo spot che hanno fatto? di che? è faolo coi figli no, lo spot hanno fatto si, questi, poi dopo te lo mando ma lo spot di che? ho fatto spot dei supermercati che stanno da miliardi ma che davvero? e c'è sta pure lui, si, si e mandami, mandami ma dopo te lo mando su a parte che sta pure sulla pagina ah, che hanno fatto un po' di più che è un po' di più che è un po' di più Alla prossima! Ah, dove sta? Ah, dove sta? Mi ha imaginato un'altra di spalle, ma non lo vedo. Capo nemico rilevato. Mi chiesto di esistenza medica immediata. E' mori! Mi chiesto di esistenza medica. Mi chiesto di esistenza medica. Preso. A posto. Non si sa mai quando ne arriveranno ancora. Ecco, il deposito rifornimenti dovrebbe avere aperto. No, un paio me ne sono fatti dei cosi di avamposti. Ma carina questa cosa degli avamposti che sblocchi le varie cose. Dove sta il deposito rifornimenti? Sta qua. Chi è? Non avremmo vinto senza di te, agente. E' stata una battaglia durissima, agente. Non ho paura! Ah, ok. Vabbè, prendiamo tutto. Una bella pistoletta. Una bella pistoletta. Non male. Ah, lo sapevo io. Devo... Come faccio? In modo se tolgo... Aspetta... Ah, devo prima... Aspetta che c'ho troppa rubaccia, troppa monnezza. Ehm... Mi sa che abbiamo finito. Fate saccheggia. Eh si! Babbo, va! Io stacco che vado a preparare la cena. Va bene? Va bene? Si, ci sente! La saluto! Segui a Debra! E' frettanto che te saluta che sta qua. Richiesta di supporto! Vabbò! Cosa all'ustio allora? Io, Claudio, Marco e Sandro e Marta quando li vedi! Va bene, se li vedi! Beh, un Claudio ne la vedi! Ah si, Claudio si! Vabbò va! Ciao! Va bene, ok dai, ciao ciao ciao! 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 Gente, ti consiglio di andare. Che devi fare? Grazie.